Metti insieme un quartiere fieristico nella località più notturna d'Italia, i professionisti musicali e gli artisti più seguiti ed è subito evento. Innovazione e tecnologia sono gli elementi che caratterizzano Music Inside Rimini, primo appuntamento più dinamico e interattivo. La manifestazione spettacolo prende il via dal 7 al 9 maggio nei 10 padiglioni dedicati di Rimini Fiera. Si tratta di una vetrina per tutta l'industria che si occupa delle attrezzature, delle luci, dei suoni, degli allestimenti che stanno dietro alle migliori performance live sui palchi e negli spazi di teatri, palazzetti dello sport, arene, stadi dedicati. La particolarità è dettata dall'unione di professionalità in esposizione alle aziende produttrici italiane che consentono alla nostra nazione di eccellere nel mondo per la realizzazione di impianti illuminotecnici, di audio e di altoparlanti e di arte. Sono allestiti i quattro palchi che vedono il susseguirsi di appuntamenti musicali, show, workshop, interviste e tavole rotonde con i protagonisti italiani che muovono il mondo musicale dell'intrattenimento. Tra gli ospiti on stage ci sono Rizophonic, sempre impegnati nel progetto che porta acqua nelle zone aride dell'Africa in collaborazione con Amref che presentano il nuovo brano con la presenza del capitano Mario Riso e di Alteria. Domenica 8 maggio c'è Violetta Zironi sul palco che dopo la partecipazione ad X-Factor ha confermato la sua bravura insieme all'inseparabile strumento ukulele e sta lavorando al primo disco. Negli show di intrattenimento troviamo anche Benji dei Ridillo e Raul e Mirko Carsadei. Una delle missioni della fiera è sicuramente l'interattività tecnologica e la condivisione. A questo proposito Music Inside Rimini presenta la prima app di carpooling che sposta le persone in base agli interessi comuni in riferimento agli eventi musicali e agli appuntamenti live. Inoltre è nata un'app in grado di avere sempre a portata di smartphone gli eventi che ci interessano, i locali e gli orari in cui si sviluppano con l'opportunità social di incontrare persone in modo semplice e divertente. Degno di nota è anche il palco per le performance live che si prepara in un'ora. Music Inside Rimini è sicuramente una formula vincente per coinvolgere non solo i professionisti del settore ma anche gli artisti italiani e il pubblico appassionato. Tutti questi elementi miscelati insieme possono consentire il raggiungimento di obiettivi importanti, il riconoscimento del valore italiano artistico, musicale e produttivo che ci caratterizza, un maggior sviluppo dell'esportazione del Made in Italy, nuovo impulso al mercato dell'intrattenimento musicale ed il consolidamento del turismo. Music Inside Rimini è il nuovo cuore dell'industria musicale italiana che avvicina sia i professionisti che gli appassionati in un'ottica nuova orientata a sviluppare nuove opportunità. Music Inside Rimini